Ce la possiamo fare? Il sole è calato, io volevo una ripresa col sole così mi veniva tutta la luce in faccia e io sembravo bona. Dove siamo? Oh, dove siamo? Boh, 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 non lo so. Siamo Etna Comics. Comunque, ciao, ora vi faccio, entriamo nel vivo della manifestazione e andiamo. Questa è la mia area preferita, ovvero quella dei, turnica? Dei midi-clorians, combattimenti o spudello, eh? Impressione assoluta. Ciao, ho delle domande. Il materiale è fatto? Carne e mano. Non è vero, dimmi, di che materiale è fatto? Silicone. Io alzo il coso, cosa trovo? Certo, trovi tutto. Tutto? Veramente? Davvero? E, puoi svedere? Oh, wow, è vero, lì sotto ci sono delle cose, ok? Grazie, ciao. Per piacere, diamo. Vuoi tornare? Cosa puoi fare? Sparare? Uccidere? Ah! Non mi posso perere? No. Non mi posso? Sparare? No? Sì, ok. E spara? Ok, me ne vado. Non mi posso perere? Ci troviamo nell'area magic, ovvero la famosa fumetteria, quella di Via Genova, no? Che io sto là, cioè, nella zona, no? No, Via Genova? Nella zona. Ogni tanto io passo e i miei amici urlano una cosa, no? A mia mani e iscrivetevi al mio canale! Questo non c'era l'anno scorso. La gente mi guarda! Parapara, parapara! Ma chi ce ne frega? Parapara, parapara! E io mi vergogno! Parapara! Ghostbusters! Wow, l'è fighissimo! Figata! Ma non lo posso toccare! Che è, c'è il mio? Ah! Parapara, parapara! Parapara, parapara! Parapara, parapara! Ghostbusters! Parapara, parapara! Parapara, parapara! 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 Par alla Piera, quindi, quindi, ciao, ciao, che è? No, non te ne andare, per questo ti sei messa la maschera, perché ti vergogni? Ah, ciao, ok, ciao, il duro mestiere dello youtuber, il durissimo mestiere dello youtuber, ciao, che fai, disturbo? Eh, volevo farti una domanda, tu lo sai chi è Ania Mania? E lo vuoi sapere? No, lo vogliono sapere, ciao, disturbo? No, vero? Ok, allora, volevo farvi una domanda, voi sapete chi è Ania Mania? No, 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 ok, lo volete sapere? È complicato questo, ciao, sei la morte, aiuto, cosa? Non sono la morte, ok, chi sei? Nazgul, ah, ok, è una domanda, ah, signore, sì, ok, l'abbiamo capito, non gli chiedo più niente, mi sono spaventata, amico, ciao, eh, una domanda, tu lo sai chi è Ania Mania? Tu lo sai chi è Ania Mania? Ani Mania? Ania Mania, mi è donna, no, no, Ania Mania con la? No, e secondo te chi è con la? No, no, la stupalli potrebbe essere, sì, ipoteticamente, ripeti il nome? Ania Mania con la? Non lo so, è una mania di qualcosa? Di qualcosa, di chi, di chi? Di Ania, chi è Ania? Chi è? E io, bravo, hai visto? Miglioriamo, io sono famosissima, cioè non mi riconosce nessuno, però io sono comodissima, ve lo sicuro, mi cercherai su YouTube, perfetto, Ania Mania staccato, sì, con la? No, Ani Mania, va bene, ok, ok, ciao, 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 dimmi, dimmi, cosa? No, pensavo che ti stavo disturbando con la cosa, no, dimmi, non puoi dire niente? Ah, io pensavo volessi fermarmi perché conosci il mio canale YouTube e quindi, eh, no, Ania Mania, no, non mi conosci? Purtroppo no, ma reculca, ciao, scusa, scusa, ero dietro di te per parlarti, che dobbiamo fare? Io, Stefania, che è? Ah sì, ciao, ma facciolo qui, oh, che merino, ho un canale YouTube, sono cadenese, il canale si chiama Ania Mania, e faccio... Devo assolutamente segnarlo perché sono me, Ani Mania, ah no, Ani Mania sono quelli dei fumetti, io sono Ania Mania, con la... Ania Mania, con la DJ? Ania Mania, sì, aspetta che controllo... Allora, faccio parodie per lo più, la gente mi insulta, eh, però... Eh, no, non ti insultano mai? Eh, 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 e lo so, fei bene, anche io comincio a sbattermene. Grazie a tutti